Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. Come abbiamo accennato nei video precedenti, che se non hai visto ti consiglio di recuperare, le misure non sono mai perfette. Ma la differenza tra una misura e il valore reale che stiamo cercando di misurare è detta errore della misura. Ovviamente non stiamo parlando in questo caso di disattenzioni che possiamo compiere nell'effettuare la misura stessa, ma gli errori di cui parliamo sono dovuti a dei limiti intrinseci degli strumenti e delle procedure che utilizziamo per effettuare la misura. Ma riconoscendo la causa dell'errore compiuto nella misurazione, saremo in grado di ridurre l'entità dell'errore stesso, ma mai di eliminarlo completamente. Quando osserviamo un termometro, la presenza di una scala che va di grado in grado non ci consente, per esempio, di conoscere l'esatta posizione tra i 24 e i 25 gradi centigradi. Mettiamo che possiamo stimare che la temperatura indicata sia di 24.3 gradi Celsius. Ovviamente questo non possiamo affermarlo con certezza, ma la cifra decimale, in questo caso 3, è una stima incerta e potrebbe essere facilmente interpretata come un 2 o un 4 da un qualsiasi altro osservatore. Per convenzione in campo scientifico, nell'effettuare una misura, registriamo tutte le cifre fino alla prima cifra incerta compresa, nel nostro caso il 3. Le cifre registrate, secondo questa convenzione, sono dette cifre significative. Mettiamo ora che il termometro sia graduato al decimo di grado. In base a questa convenzione possiamo stimare che la temperatura sia di 24.32 gradi centigradi, un valore con 4 cifre significative, di cui l'ultima è incerta. Ecco, adesso di quale dovremmo avere più fiducia nella lettura del termometro? Penso che non ci siano dubbi, quello di destra, ha un minor grado di incertezza, perché ha un maggior numero di cifre significative. Andiamo infatti da i 24.3 gradi celsius ai 24.32 gradi celsius. Quindi l'attendibilità di una misura dipenderà dal numero di cifre significative impiegate per rappresentarla e quindi per definizione il numero di cifre significative in una misura è dato da un numero di cifre certe più una cifra incerta. Per esempio in 22.3 metri, 22 sarà la cifra certa, mentre il 3, quella incerta. In 22.34 metri le cifre certe saranno 22.3, mentre il 4 sarà la cifra incerta. In un lavoro scientifico dobbiamo far sempre attenzione a riportare il numero corretto di cifre significative. In generale, seguendo le regole che adesso vedremo, sarà più facile determinare quante cifre significative abbia un numero. Innanzitutto dobbiamo sapere che ogni cifra diversa da zero è una cifra significativa. Inoltre, gli zeri compresi tra numeri diversi da zero sono delle cifre significative. Vediamo subito un esempio. 509 metri presenterà tre cifre significative e quindi lo zero sarà una di queste. Il numero 30.402, mettiamo che siano chili, possiederà cinque cifre significative di cui gli zeri faranno parte. Inoltre, se un numero è minore di uno, allora i numeri che sono alla fine del numero e quelli che sono compresi tra i numeri diversi da zero sono cifre significative. Quindi 0.090 kg ha due cifre significative, mentre invece 0.3005 litri ne possiede quattro. Come ultima regola abbiamo che gli zeri a sinistra della prima cifre diversa da zero non sono significativi. Il loro scopo è quello di indicare il posizionamento del punto e quindi 0.08 litri possiede una cifra significativa, mentre 0.00045 litri mettiamo ne possiede due. Tutto questo è molto importante perché introduce il fatto che cambiando l'unità di misura le cifre significative non cambiano. Andiamo adesso a vedere qualche esercizio con le cifre significative per poi concludere le regole con le operazioni. Andiamo a determinare quindi quante cifre significative hanno le seguenti misure. Come primo abbiamo 478 cm. Questa, dato che tutte le cifre sono diverse da zero, ha tre cifre significative. Abbiamo poi 6,01 grammi. Quante cifre significative avrà? Dato che gli zeri contenuti tra delle cifre diverse da zero sono cifre significative, anche questa misura avrà tre cifre significative. Andiamo poi a vedere la prossima misura, ovvero 0.938 kg. Quante cifre significative avrà? Dato che gli zeri alla sinistra della prima cifra diversa da zero non vengono considerati come cifra significativa, questa qui avrà di nuovo tre cifre significative. E per lo stesso motivo 0,052 kg. Quante cifre significative avrà? 2. Per quanto riguarda invece le operazioni ci sono altre cifre significative. Nelle addizioni e sottrazioni, per esempio, non possiamo avere più cifre alla destra del punto di quante non ne abbiano i numeri di partenza. Vediamo subito un esempio. Quindi se abbiamo 32.542 e aggiungiamo 1.2, questo numero verrà 33.742. E arrotondiamo quindi questo numero a 33.7. E scriviamo quindi 33.7 perché per questa regola non possiamo avere più cifre alla destra del punto di quanto non ne abbiano i numeri di partenza. Quindi dato che questo addendo ne aveva una sola, dobbiamo per forza scriverne una sola alla destra del punto. Nelle moltiplicazioni e nelle divisioni invece il numero di cifre significative nel prodotto finale o nel quoziente viene determinato dal numero iniziale che abbia il più piccolo numero di cifre significative. Quindi se io ho 2.8 per 4.5039, mettiamo, il risultato sarà 12.61092. E questo numero dovrà essere arrotondato al più basso numero di cifre significative che abbiamo nel nostro prodotto. E dato che il più basso numero di cifre significative è quello di 2.8, ovvero due cifre significative, dobbiamo arrotondare il risultato a due cifre significative. Quindi questo 12.61092 dovrà essere arrotondato a 13. E abbiamo arrotondato a 13 perché la cifra che segue la cifra a cui vogliamo arrotondare, quindi la cifra che segue il 2, ovvero il 6, è maggiore o uguale di 5 e quindi abbiamo arrotondato a 13. Vediamo adesso un esempio con le divisioni e quindi mettiamo che abbiamo 6.85 fratto 112.04. Questo risultato che dà 0.0611388 e il resto. dovrà essere arrotondato al numero di cifre significative del numero iniziale che ne ha di meno. Quindi se abbiamo che 6.85 ha tre cifre significative, dobbiamo arrotondare questo numero a tre cifre significative. E come abbiamo imparato prima, gli zeri che sono a sinistra della prima cifra, diversa da 0, non sono significativi. Quindi se dobbiamo arrotondare a tre cifre significative a questo numero, avremo 0.0611, ovvero a tre cifre significative, perché appunto questi due zeri non lo sono. Benissimo, con questo si conclude questo approfondimento sulle cifre significative. Ti consiglio di iscriverti per restare aggiornato sui prossimi contenuti e darci una mano con il canale. Inoltre, se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico, seguici su Instagram e Telegram, ai link che trovi qua sotto in descrizione. Per il momento è quindi tutto. Grazie per l'attenzione e a presto da About Biology. Grazie per la visione!